Musica Camorra, blizza, rione, traiano per azione alto impatto degli agenti della questura di Napoli in un sottoscala ritrovate armi e droga scoperto un sistema di 10 telecamere che serviva ai boss per controllare tutto il palazzo Pietrelcina in azione la banda del Bancomat hanno utilizzato l'esplosivo per far saltare il Bancomat della Credem già in passato finita nel mirino dei malviventi danneggiate anche le strutture interne della banca bottino per migliaia di euro Festa della Repubblica in difesa dei valori celebrato il 2 giugno in Campania l'appello del sindaco di Napoli la Repubblica va difesa e fatta vivere soprattutto difendendo la Costituzione manifestazioni a Salerno, Avellino e Benevento morta nello scontro si riapre il caso è stata riesumata la salma di Maria Rosaria Santese la ventenne di battipaia che ha perso la vita in un incidente stradale travolta da un SUV la procura vuole chiarire la dinamica su cui ci sono ancora troppi misteri Conti in rosso e TBC tensione ad Avellino il sindaco Foti ammette che la situazione finanziaria del comune è critica ma non dobbiamo andare in giro a chiedere l'emosina e sulla tubercolosi a scuola smorsa l'allarme ma critica l'Asl Addio a De Crescenzo maestro di pallanuoto è scomparso nella sua casa di Varcaturo in provincia di Napoli all'età di 67 anni per un male incurabile è stato un campione in vasca negli anni 70 con la Canottieri di Napoli Buongiorno questi titoli del nostro TG in apertura c'è la cronaca operazione alto impatto della polizia al rione Traiano a Napoli in un sottoscala è stato ritrovato un arsenale con pistole e proiettili cocaina e marijuana ed anche un sistema di video sorveglianza usato per controllare l'intero stabile vediamo il servizio una task force partita all'indomani del comitato della sicurezza e ordine pubblico per il controllo del territorio dopo i numerosi fatti di sangue avvenuti nei quartieri cosiddetti a rischio ieri pomeriggio nell'ambito di questi controlli gli agenti della polizia del commissariato San Paolo insieme a quelli dei reparti prevenzioni crimine di Cosenza e Siderno e aiutati da un'unità cinofile e dal personale dei vigili del fuoco hanno effettuato un'operazione ad alto impatto su un isolato di via Catone alle 15 poliziotta hanno effettuato un'accurata bonifica di tutto lo stabile comprese le sottoscale e i tetti dopo aver perquisito numerose persone si sono arrampicati con notevoli difficoltà sul tetto spiovente risultato particolarmente scivoloso e senza parapetto di uno dei palazzi nel corso dell'ispezione è stato rinvenuto e smantellato un sistema di videosorveglianza composto da 10 telecamere una centralina e numerosi cavi il sistema era infatti in grado di controllare l'intero isolato successivamente in un vicino terreno incolto è stato rinvenuto tra la vegetazione un giubbotto antiproiettile con una palina per le segnalazioni stradali poco dopo in una cassetta di ferro nascosta in un sottoscala sono stati rinvenuti circa 700 grammi di cocaina circa 50 grammi di speedball una rivoltella calibro 38 special dotata di 6 cartucce una pistola vector calibro 9 con matricola brasa dotata di altre 11 cartucce e un'altra pistola beretta calibro 9 parabellum con matricola brasa e 7 cartucce nonché due raccoglitori con ben 80 cartucce calibro 38 special a piombo nudo ora si cerca di risalire ai possessori delle armi e della droga e verranno effettuate delle analisi sulle armi per capire se sono stati utilizzati per fatti criminosi banditi in azione nella notte a Pietrelcina dove è stato assaltato il bancomat della Credem i banditi hanno utilizzato dell'esplosivo per rubare migliaia di euro in servizio di Alessandro Fallarino torna in azione nella notte la banda dei bancomat dopo una serie di colpi messi a segno anche nella zona del Tricollo in provincia di Avellino questa volta i malviventi sono entrati in azione a Pietrelcina nel Sannio dove hanno fatto letteralmente esplodere il bancomat della Credem un botto violentissimo che ha distrutto l'erogatore di banconote e parte degli arredi interni dell'istituto di credito dopo l'esplosione i malviventi hanno preso migliaia di euro che erano stati caricati nell'ATM ieri in mista del lungo weekend la deflagrazione ha anche lesionato dei divisori interni alla Credem un'azione velocissima portata a termine in pochi secondi e ripresa anche dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso i banditi col volto coperto sul posto sono accorsi i carabinieri di Benevento e le volanti della questura dei malviventi e del bottino però nessuna traccia sono ora in corso le indagini per risalire all'identità dei banditi forse gli stessi che qualche settimana fa erano stati messi in fuga dai carabinieri ed avevano abbandonato alcuni arnesi per lo scasso nei pressi del bancomat di un'altra banca sempre a Pietrelcina 2 giugno anche in campagna si è celebrata la festa della Repubblica De Magistris richiama ai valori della Costituzione nel Sannio il prefetto Galeone ricorda le buone pratiche per l'integrazione la Costituzione va difesa la Repubblica va fatta vivere e custodita nei valori della nostra carta costituzionale questo è il messaggio del sindaco De Magistris nel giorno delle celebrazioni per il 71esimo anniversario della Repubblica al mausoleo di Posillipo il primo cittadino ha reso onore ai napoletani scomparsi negli anni della seconda guerra mondiale e nel corso delle quattro giornate di liberazione dal nazifascismo celebrazioni anche a Salerno autorità civili e militari si sono ritrovate in piazza Mendola durante la cerimonia sono stati anche consegnati 46 diplomi di onorificenza al merito della Repubblica italiana ad Avellino ultima uscita pubblica del prefetto Carlo Sessa che si appresta a lasciare il capologo Irpino e che si è soffermato sulle nuove sfide che deve affrontare il nostro paese il fenomeno della temuta insicurezza nella vita quotidiana il fenomeno dell'immigrazione che inegabilmente ci impegna sotto tutti i profili quelli della sicurezza quella della integrazione quella della cultura il fenomeno della criminalità che le forze dell'ordine insieme alla magistratura ben stanno combattendo a Benevento il prefetto Galeone ha evidenziato come nel territorio sannita si stiano realizzando esperienze positive di integrazione per quanti fuggono dalla guerra e danno diritto alla protezione il vice sindaco Mazzoni che ha sostituito un convalescente Mastella ha sottolineato citando Benigni la bellezza della nostra Costituzione e la fortissima attualità dei suoi principi fondamentali ultimatum al governo Gentiloni da parte del governatore De Luca per la nomina che tarda ad arrivare del commissario alla sanità o si procede in tempi rapidi oppure la regione farà opposizione dura vediamo il governatore della campagna Vincenzo De Luca lancia l'ultimatum al governo per la nomina del commissario alla sanità dopo la pubblicazione dei dati relativi all'incidenza dei tumori con letture contrastanti e per nulla univoche che hanno sollevato preoccupazione e allarme l'inquilino di Palazzo Santa Lucia sollecita nuovamente l'esecutivo nazionale ad indicare il sostituto del dimissionario Joseph Polimeni che ha lasciato l'incarico quasi tre mesi fa De Luca non è un mistero aspira a ricoprire quel ruolo dopo che è venuta meno la norma che prevede l'incompatibilità tra l'incarico di governatore e quello di commissario alla sanità e anche in vista delle elezioni anticipate con la chiusura dell'esperienza Gentiloni il presidente della giunta regionale teme che la nomina del commissario venga ulteriormente rinviata De Luca ha detto a chiare lettere che dal governo si aspetta una risposta in tempi rapidi altrimenti è il monito la posizione della regione sarà duramente critica e di forte opposizione insomma si alzano i toni dello scontro politico a spingere il governatore ad incalzare dati shock dell'asla Napoli 2 sull'incidenza dei tumori nella terra dei fuochi che hanno fatto seguito a quelli sulle neoplasie infantili stilate dall'ospedale Santo Bono al fianco di De Luca la maggioranza che lo sostiene mentre l'ultimato ma del governatore è stato rispedito al mittente dall'opposizione 5 Stelle con la capogruppo Valeria Ciarambino che contesta la faccia tosta del presidente insomma sulla sanità è sempre scontro dalle prime luci dell'alba nei comuni di Gesualdo Frigento e Sturno in Irpinia in corso una vasta operazione antidroga da parte dei carabinieri della compagnia di Mirabella e Clano per dare esecuzione ad una misura cautelare a carico di 7 persone il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Avellino sul richiesto della Procura della Repubblica per reati di detenzione e spaccio di eroina marijuana hashish e cocaina sono state effettuate numerose perquisizioni con le unità del nucleo carabinieri cinofili di Sarno nonché con gli elicotteri che hanno sorvolato la zona per l'intera mattinata è stata riesumata la salma di Maria Rosaria Santese la ventenne di Battipaia morta in un incidente stradale travolta da un SUV la Procura vuole vederci chiaro sul decesso della giovane vediamo proseguono le indagini sulla tragica morte di Maria Rosaria Santese la ventenne di Battipaia figlia del noto imprenditore Renato che ha perso la vita due settimane fa in un incidente stradale in via Cupafilette disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di Salerno Elena Cosentino la riesumazione della salma della giovane ieri è stata effettuata l'autopsia all'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Speranza vanno ancora stabilite esattamente le cause del decesso della Santese travolta mentre guidava il suo scooter da una 46enne di Battipaia a bordo di un SUV la signora è attualmente indagata per omicidio colposo gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dello schianto se vi siano responsabilità da parte della donna che ha travolto la Santese che dopo l'impatto ha perso una gamba ed è stata trascinata per diversi metri sull'asfalto sequestrati dagli agenti telefoni cellulari sia della vittima che della 46enne di Battipaia importante capire se al momento dell'incidente le due fossero al cellulare sono stati acquisiti dalla polizia anche i firmati delle telecamere di sorveglianza posizionate davanti ad una casa in via Cupafilette in quella strada maledetta dove Maria Rosaria è morta tragicamente il 19 maggio scorso è ancora sangue sulle strade salernitane l'ultimo incidente è avvenuto ieri nel tratto che da Sant'Angelo conduce a Curteri in direzione Mercato San Severino per causa in corso di accertamento una moto con a bordo due fidanzati di 18 e 15 anni si è scontrata con un furgone ad avere la peggio proprio la 15enne ricoverata in coma farmacologico al Ruggi di Salerno il giovane invece è stato operato ma non è in pericolo di vita e nel giorno della festa della Repubblica una marcia per la vita contro i tumori nel Vallo Lauro associazioni e istituzioni in corteo da Taurano a 15 per sensibilizzare sul tema Rocco Fatibene Tumori il Vallo di Lauro si mette in marcia per la prevenzione due chilometri per contribuire alla lotta contro il male incurabile un'iniziativa della Proloco di 15 in collaborazione con quella di Taurano una marcia per la vita che ha visto scendere in campo l'associazionismo locale e le istituzioni in un territorio dell'Irpinia dove tante vite soprattutto giovani sono state strappate dal male una prima importante presa di coscienza sul tema in bassa Irpinia è una cosa molto importante per il territorio una cosa che arriva al cuore dei cittadini e sicuramente si vedranno gli effetti per tutto il Vallo di Lauro è un segnale che vogliamo dare a tutti perché questa è una problematica che colpisce tutte le famiglie più controlli dovrebbero essere più controlli ci vogliono altre occasioni come queste e anche incontri soprattutto con la medicina del territorio e con l'aslo la prevenzione è uno dei momenti più importanti è andare sul territorio un territorio così anche sempre di San De Avellino e dargli importanza significa secondo me dare importanza alla parte interna della nostra regione nell'anno avremo finalmente il monitoraggio della situazione delle malattie tumorali nel nostro territorio e c'è importantissimo non solo per vedere dove c'è una maggiore incidenza o se diciamo la prevalenza e l'incidenza dei tumori nel nostro territorio sono in linea con quelli della nazione italiana il corteo è partito dal centro storico di Taurano attraversando il comune di Lauro è giunto poi a 15 dove è stata celebrata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie una santa messa in memoria di tutte le vittime una foto scattata di spalle nuda sul letto mentre legge un libro doveva restare un ricordo tra due fidanzatini invece lui l'ha condivisa con i suoi amici su whatsapp un ventenne salernitano è stato così rinviato a giudizio con l'accusa di pornografia minorile la storia risale al 2014 quando i due giovani lei 17enne e lui 19enne hanno una relazione non appena la giovanissima è venuta a conoscenza del fatto che le sue foto siano state condivise online ha raccontato l'accaduto ai genitori denunciando il tutto superate due richieste di archiviazione formulate dal sostituto procuratore del tribunale di Salerno Roberto Penna si è giunti all'udienza preliminare il GUP ha così disposto il rinvio a giudizio il giovane andrà a processo il prossimo dicembre e ad Avellino il sindaco Paolo Foti tranquillizza sui conti del comune e sull'allarme tubercolosi riserva una stoccata all'asle è mancata la comunicazione vediamo conti di nuovo in rosso del comune verde pubblico spostamento del processo isochimica a Napoli e caso tubercolosi il sindaco Foti parla tutto campo a margine delle celebrazioni per il settantunesimo anniversario della Repubblica all'indomani della dichiarazione di ente strutturalmente deficitario il sindaco si dice dispiaciuto per tutta una serie di limitazioni che lascerà al suo successore ma invita a non fare drammi non pregiudica la tenuta dei conti sono in una sicurezza abbastanza rassicurante il fatto che oggi siamo ente strutturalmente deficitari non ci manda come dire a chiedere le lemosine poi difende l'assessore all'ambiente penna finito nel mirino di alcuni consiglieri di maggioranza per i ritardi sulla manutenzione del verde e il ripristino del decoro urbano dei ritardi ci sono e non sono solo responsabilità dell'assessore all'ambiente la dirigenza i funzionari comunque stanno nelle loro stanze a fare il loro lavoro certe volte lentamente lo spostamento del processo isochimico a Napoli è un episodio che proprio non è andato giù a Foti ho avuto come la sensazione che ci fosse già una decisione presa da parte dell'organizzazione della magistratura infine il sindaco fa il punto sull'allarme tubercolosi che ha portato alla chiusura della scuola Da Vinci dopo il ricovero di uno studente di 12 anni se sabato i bambini devono andare a scuola non so se i presidi hanno fatto ponte sono nella condizione di tornare tranquillamente a scuola se ASL fosse stata più comunicativa con gli organi di stampa e avesse comunicato la reale situazione avrebbe un po' tranquillizzato anche i genitori che sono giustamente spaventati si riaccende la polemica sugli spazi sociali che il sindaco Mastella ha annunciato di voler sgomberare gli attivisti presentano un manifesto di petizione il servizio è di Maria Teresa De Lucia Chiediamo al sindaco di Benevento di riconsiderare criticamente il suo annuncio questo in breve il senso del manifesto a sostegno degli spazi sociali e culturali della città di Benevento che comincia a prendere forma negli ultimi giorni in risposta alle intenzioni manifestate dal sindaco Clemente Mastella che ha espresso l'intenzione di precludere l'uso delle due strutture comunali dove hanno sede il centro sociale di pistaggio e di laboratorio per l'autorganizzazione popolare l'appasilo 31 tra i primi firmatari Maurizio Acerbo segretario di fondazione comunista Francesco Caruso Simona Marino Don Vitaliano della Sala e poi attori artisti musicisti e gli altri centri sociali della campania siamo esponenti della società civile impegnati nel tessuto della cooperazione sociale cittadina scrivono ma non cogliamo il senso delle intenzioni annunciate da Mastella che vorrebbe chiudere gli spazi o comunque limitarne fortemente le attività chiediamo al sindaco di Benevento di riconsiderare criticamente il suo annuncio e di non ledere il valore dell'autonomia dei percorsi anche informali di auto-organizzazione che tanto bene i comuni hanno fatto e faranno in questa città e in generale nella società perché l'alternativa sarebbe il vuoto in cui già navighiamo da troppo tempo dopo la denuncia dopo la denuncia in procura dei residenti arriva anche la protesta dei commercianti i residenti del centro storico di Salerno in trincea contro la Movida fracassona i microfoni di Otto Channel il rappresentante degli esercenti che dice senza controlli danni a cittadini e turisti Giovanni Battista Lanzilli schiamazzi musica a tutto volume vendita di alcolici ai minori e moleste a Salerno tiene ancora a banco la Movida fracassona dopo la protesta dei residenti della zona del Duomo che hanno presentato l'ennesimo esposto in procura intervengono nel dibattito anche i commercianti del centro storico e chiedono a comune forze dell'ordine di tutelare i cittadini che abitano nei vicoli del capoluogo ma anche i turisti che frequentano Salerno Salerno ormai ha una vocazione turistica spiccata per cui sono nati nel cuore del centro storico decine e decine di bed and break e case famiglie e case vacanza e molte di questi gestori lamentano apposto che i loro clienti evidenziano questo problema notturno perché sembrerà strano ma nel centro storico i vicoli stretti assenza di traffico bastano tre persone che parlano per strada alle tre di notte come se li tenessi in camera ora naturalmente bisogna creare un fenomeno di repressione però comunque il disturbo della quete pubblica rimane un reato molte volte le persone che si trovano esasperate ad andare a denunciare vengono quasi prese come denunce di serie B ma rilevanti diciamo che il rischio è quello di danneggiare non solo i residenti ma anche i turisti e quindi la vocazione che sta prendendo Salerno e che vuole acquisire Salerno sì però il problema è che il turista dopo tre giorni va via il residente ci rimane da anni cioè chi c'è nato in queste strade del centro storico e qualche nostro vicino ha confesato di aver venduto casa aver cambiato casa appunto perché è esasperato l'OSAP in visita al penitenziario di Bellizia d'Avellino denuncia nelle carceri pochi agenti e troppe risse con i detenuti l'amministrazione penitenziaria cambi registro pochi agenti in servizio e continue tensioni con i detenuti che mettono a repentaglio spesso la vita dei poliziotti penitenziari a lanciare l'allarme il segretario generale del sindacato OSAP Leo Beneducci in visita ispettiva al carcere Irpino di Bellizzi in un carcere che forse in questo momento non presenta più le criticità di una volta ma che comunque risente del nuovo aumento della popolazione denuta del nuovo incremento della popolazione denuta di un organico che va via via diminuendo l'incolumità del personale è sempre più a rischio anche perché purtroppo è stato di recente istituito il garante nazionale dei detenuti ma non c'è nessun garante nazionale del personale anziché partecipare alle passerelle romane nel giorno della festa della Repubblica spiega Beneducci abbiamo preferito essere qui nei luoghi istituzionali in segno di solidarietà verso chi tutti i giorni tra mille difficoltà adempia il proprio dovere in un contesto difficile come il carcere chi merita effettivamente da prova di recupero sicuramente vada tutelato vada agevolato ma quelli che sono e restano violenti devono essere isolati e devono essere trattati secondo le regole che sono previste il ministro Orlando sicuramente è stato considerato uno dei non peggiori ministri della giustizia degli ultimi anni ma sicuramente non è stato e non è un ministro che pensa alla polizia penitenziaria via libera ai contratti di solidarietà per i lavoratori delle fonderie Pisano a Salerno scongiurato il licenziamento di oltre 50 dipendenti ma restano ancora tanti dubbi sul futuro e sulla delocalizzazione dell'impianto vediamo il servizio boccata d'ossigeno per i lavoratori delle fonderie Pisano di Salerno siglato il contratto di solidarietà che consentirà alle maestranze di superare anche nei mesi a venire il drastico calo di commesse dopo lo stop forzato dell'impianto di fratte soddisfatta questa cosa comporta comunque una riduzione dell'orario di lavoro l'azienda aveva già fatto presente che le lavorazioni non potevano riprendere a pieno regime dopo la conclusione dei sei mesi della cassa inderoga abbiamo fatto un tentativo avendo attivato questa cassa nel 2016 di richiedere una possibilità di prorogare la stessa ma purtroppo dal 2017 lo strumento normativo non può essere applicato per cui la solidarietà significherà lavorare al 50% del tempo e l'altro 50% viene integrato dall'Inps la garanzia diciamo per i lavoratori è dal fatto che innanzitutto si sono scongiurati gli esuberi che comunque l'azienda aveva annunciato pari a 52 unità su 114 ma il sindacato sa che si tratta di una boccata d'ossigeno temporanea perché la partita decisiva per il futuro dello stabilimento e dunque dei lavoratori è indissolubilmente legato alla delocalizzazione la prospettiva che noi caldeggiamo da tempo di andare a lavorare direttamente su un sito nuovo con impianti tecnologici avanzati bellezze monumentali e prelibatezze enogastronomiche il binomio che mette in campo la CNA di Benevento per accogliere al meglio i turisti vediamo la cultura va in carrozza e i turisti si accomodano su un trenino che li porta a scoprire Benevento e le sue bellezze insieme ad un buon bicchiere di vino è questo il duplice obiettivo del progetto le degustazioni ideato da Sannio autentico primo brand di promozione territoriale del Sannio della CNA Benevento CNA cerca di integrare di aumentare l'offerta turistica sulla città di Benevento dando questa opportunità utilizzando il trenino per visitare i monumenti più importanti della città e allo stesso tempo per far conoscere le eccellenze dell'agroalimentare Benevento museo a cielo aperto il titolo della prima visita che ha portato alla scoperta di luoghi simbolo della città come la Rocca dei Rettori piazza Matteotti con lo splendido scenario della chiesa di Santa Sofia l'ortus conclusus di Mimo Paladino l'arco di Traiano la cattedrale il teatro romano ed il ponte Leproso attraverso il rione Stiamo lavorando in tutta la provincia di Benevento non solo sulla città di Benevento ovviamente ci saranno una serie di eventi nell'arco dell'anno che valorizzeranno anche altri luoghi però il trenino è lo strumento perfetto per girare la città per dare l'opportunità di vedere tutto quello che c'è come bellezza Prossimi appuntamenti già calendarizzati prevedono uno speciale Benevento Longobarda il 10 giugno il 23 e l'8 luglio Benevento museo a cielo aperto ed il 28 agosto Benevento città delle streghe Ad Ariano Irpino un convegno sui miti del calcio da Pelé a Maradona passando per le grandi glorie italiane con gli occhi puntati sullo straordinario momento che sta vivendo la campagna iniziativa promossa dal club Panathon tesa a promuovere i valori veri dello sport Gianni Vigoroso Storie di calcio storie di vita è il tema del convegno organizzato dal club Panathon di Ariano Irpino associazione internazionale che promuove l'affermazione dei valori dello sport quale strumento per la crescita e l'educazione dell'individuo Il convegno di questa sera è stato incentrato proprio su una potremmo dire evoluzione quindi dai tempi della sfera di Platone questo concetto mitico così misterioso della sfera quindi la palla fino ai giorni nostri L'insegnamento che il calcio è un sistema che attrae perché tutto ciò che attrae è amore e quindi anche il calcio va affrontato con amore ma basta soltanto vedere l'esempio di Totti l'addio di Totti l'altro pochi giorni fa per dire che è amore Avventure terrene epica miti e sogni la storia del calcio fatta dai suoi grandi protagonisti è lo straordinario momento che sta vivendo oggi la campagna nelle parole di Umberto Chiariello Il calcio è più che centenario ormai ha più di un secolo di vita e i campioni sono tantissimi noi cercheremo di scegliere quelli che più hanno eccitato la fantasia dei tifosi La campagna sta vivendo un buon momento è ottimo da tanti punti di vista perché anche nel basket bisogna dire la Sidi Castavellino per esempio oppure il cuore Napoli sanno la Benevento Calcio che potrebbe arrivare in Serie A speriamo bene sarebbe una cosa stupenda e il Napoli che in questo momento è uno dei candidati seri per il prossimo scudetto Era l'ultima notizia il Tg termina qui grazie di averci seguito ora vi lascio alle previsioni meteo grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori